Benissimo, buon pomeriggio, diamo qualche seconda agli spettatori per entrare. Ok, direi che possiamo iniziare. Dunque, buon pomeriggio a tutti, bentrovati con i nostri webinar dedicati ai pazienti e con questo quinto appuntamento del 2023. Io sono Francesco Testa della Fondazione Limpe per il Parkinson Onlus e con noi oggi sono in questo webinar dal titolo Novità della terapia farmacologica e chirurgica, il professor Maurizio Zibetti, esperto di disturbi del movimento presso il Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Torino, che ci presenterà le esposizioni della dottoressa Laura Vacca, neurologo clinico presso l'IRCS San Raffaele di Roma e del dottor Luigi Romito, dirigente medico neurologo presso la SC Neurologia 1 dell'Istituto Carlo Besta di Milano. Prima di lasciarvi vi ricordo che chi volesse intervenire facendo domande o osservazioni può farlo attraverso la sezione domande e risposte cliccando sul comando in basso nello schermo. Quindi non mi resta che dare la parola agli esperti e augurarvi un buon webinar. Grazie Francesco. Grazie, allora il mio compito è quello di introdurvi a questo webinar di oggi in cui vogliamo affrontare le terapie, le novità delle terapie sia mediche che anche delle terapie chirurgiche. Allora direi di iniziare dalle terapie mediche e quindi è un grande piacere per me introdurre la dottoressa Laura Vacca, che conoscerete credo tutti, comunque grande esperta di terapia farmacologica del Parkinson di sicuro, in particolare anche di trial clinici sui nuovi farmaci. Quindi chi meglio di lei è nella posizione di poterci esporre queste novità sulla terapia farmacologica. Quindi Laura, grazie. Grazie a te, grazie. Grazie sia a te della presentazione e alla Limpe per l'invito che è sempre molto presente nei nostri incontri. Allora, vediamo se riesco a mettere correttamente. Ok, ci siamo. Ci siamo. Dunque, io oggi volevo fare un pochino una chiacchierata su quella che è la complessità e anche la bellezza, la consentitemi dire, della terapia farmacologica nella malattia di Parkinson. Io ho sempre visto come un concerto di molti strumenti in cui tutt'oggi è una, lo dobbiamo dire, cioè senza aver paura di smentita, che il Parkinson è una malattia che si cura bene, nel senso dei sintomi, rispetto a tante altre patologie abbiamo veramente tanti strumenti. La parte del primo violino, a mio giudizio, rimane sempre quello della levodopa, intorno alla levodopa abbiamo tanti strumenti per migliorare la nostra terapia. Oggi quello che noi vogliamo andare un pochino a sbirciare sono gli strumenti che aspettano di entrare in campo, cioè quelli che stanno ancora un po' in disparte per capire che utilità possono avere nel nostro futuro terapeutico della malattia, sia nell'ambito di nuovi farmaci sintomatici e perché no, di farmaci che in qualche modo possano aiutarci a rallentare, bloccare la patologia. Questa è quella che è una diapositiva che ho proprio costruito in maniera molto personale, perché quando si parla di ricerca, il termine ricerca è molto ampio e nell'ambito del Parkinson racchiude tanti aspetti che poi portano in un'unica direzione. C'è tutta una parte che è quella che io ho disegnato un po' più in azzurro, cioè che è quella della medicina di base, della ricerca dei biomarkers per la diagnosi precoce, tutti gli studi in neurofisiologia, che è una parte di ricerca enorme che ci deve aiutare a capire la malattia, perché è solo poi dalla comprensione profonda della malattia che noi poi possiamo costruire la ricerca farmacologica e quindi che deve essere indirizzata verso farmaci nuovi che combattono anche sintomi, verso quelli che abbiamo detto possono in qualche modo aiutarci a rallentare la malattia oppure a migliorare le formulazioni che ancora oggi abbiamo. Quindi un aspetto che ci premo, in cui proprio ci tengo a dire, è che non siamo dietro nessuno alla ricerca farmacologica, quindi un po' questo mito americano, a mio giudizio, deve essere un po' demonizzato. In che senso? Questa è una fotografia dei trial clinici nel Parkinson che risale ad un paio di anni fa, per cui in epoca precovid risponde abbastanza bene a quella che è attualmente la ricerca. Come vedete, gli studi, a parte l'aspetto asiatico che forse fa proprio un po' un capitolo a sé, molti studi sono condotti unicamente, ad esempio in Cina, in Giappone, e rientrano meno nei clinical trial che invece sono multicentrici, noi insieme agli Stati Uniti conosciamo in Europa veramente tanti studi clinici. Però guardate, quello che dobbiamo evidenziare è che sì, ci sono molti studi su molecole nuove, ma sono considerevoli più della metà anche quegli studi che sono di approfondimento su farmaci già esistenti, quindi magari con una diversa indicazione medica, quelli che hanno già un'approvazione per il Parkinson, ma magari sono aperti a svilupparsi in altri sintomi nella terapia, oppure la riformulazione di farmaci che abbiamo già consolidato nella nostra terapia. Molti, ovviamente, di quelli che ci ascolteranno oggi probabilmente hanno già una diagnosi di Parkinson, sono già in trattamento da diversi anni, quindi il futuro è la nostra aspirazione, ma dobbiamo anche essere in grado di curarci meglio oggi. Quindi, non perché voglio assolutamente togliere le speranze del futuro, futuro è la mira, guardiamo oggi, e miglioriamo anche l'aspetto odierta. E invece, parlando del futuro, io parto dal nostro passato, cioè da quello che abbiamo, dalle nostre certezze. Oggi sono passati più di 61 anni dalla scoperta della levodopa e mi sento di dire che a tutt'oggi il farmaco sintomatico perfetto per curare la malattia di Parkinson dovrebbe avere la stessa efficacia della levodopa senza averne gli effetti collaterali a lungo termine che purtroppo molti di voi pazienti sperimentate. Ma ancora oggi la levodopa è un target terapeutico a cui dobbiamo, con cui dobbiamo aspirare, cioè avere un farmaco come la levodopa è un desiderio a cui veramente possiamo mirare. Queste sono le formulazioni che conoscete benissimo. C'è qualcosa di nuovo, però, che può migliorare questi effetti collaterali così che conosciamo a medio-lungo termine. Sì, qualcosa c'è, assolutamente. Questo è già un farmaco che posso dire un po' datato, anche se da noi non è mai arrivato, questo Ritari, un po' ammetizzato dagli americani, che è in vendita a dei prezzi spropositati, e che è un mix tra quello che è un lento rilascio e un pronto rilascio. Quindi è una formulazione che ci consente di dare una somministrazione di levodopa anche in pazienti più complicati con una minore frequenza rispetto alle formulazioni attuali. Un'evoluzione del Ritari è quella che viene fuori dagli ultimi studi, che è l'Impax 203, recentissimamente pubblicati i risultati di questo studio, quindi speriamo che porti quanto prima alla commercializzazione di questo prodotto, perché questo prodotto è in grado di raggiungere delle concentrazioni plasmatiche rapidamente, quindi come un rilascio immediato, ma avere un effetto più prolungato, quindi con una costruzione della molecola, no della molecola, proprio della compressa, che è in grado di dare una concentrazione plasmatica più costante. Quindi rispetto alle 5-6 formulazioni di uno standard, in questo caso la compressa andrebbe presa soltanto tre volte al giorno. Può avere un effetto fino ad otto ore, quindi un bel risparmio in termini di somministrazione. Partendo sempre dal discorso della stimolazione quanto più costante possibile, si affiancano le nuove tipi di somministrazione della levodopa, questa veramente dovrebbe essere un futuro abbastanza prossimo, perché lo studio di fase 3 si è chiuso e ha dato un esito positivo, della somministrazione sottocutanea. Fino a un po' di anni fa, la levodopa non era somministrabile per via sottocutanea, era somministrabile in maniera continua solo per via endovenosa, con dei volumi enormi, quindi non praticabile dal punto di vista pratico. Ad oggi invece sono state studiate due formulazioni nuove, che possono essere somministrate mediante dei microinfusori sottocute e quindi avere un andamento molto costante del livello plasmatico e quindi anche una stabilità nella risposta clinica. Questo è un aspetto un po' più futuristico, perché si parla sempre di levodopa, sempre di stimolazione continua, si è chiuso lo studio di fase 2, che anche in questo caso ha dato dei risultati veramente positivi di farmacocinetica, e quindi andrà a svilupparsi una fase tere di studio, sono un gel di levodopa che viene rilasciato per osmosi all'interno del cavorale. Il prototipo dello studio 2 era un piccolo ponte con agganciata questa capsula, che ovviamente si deve sfilare per mangiare, quindi a colazione viene posta dopo colazione, si toglie a pranzo e poi si tiene fino a cena. I risultati sono stati sorprendenti, anche se condotti su un numero di pazienti abbastanza esiguo, ma tanto è che per portarci a una fase successiva di studio, sicuramente lo studio andrà avanti. Parlando sempre di levodopa, ma in questo caso sfruttando la potenza di effetto rapido, cioè quindi stiamo parlando di rescue therapy, quelle terapie che possono essere prese al bisogno, si parla qui invece di una levodopa inalatoria. Questo in brigia, in realtà è già in commercio, anche questo mi dispiace, ma ha dei prezzi esorbitanti, e può essere somministrato in caso di off improvviso, perché la forma di assunzione è inalatoria, quindi come i puff che si usavano, che si usano anche per altre patologie, tipo quelli asmatiche o via dicendo. L'efficacia, diciamo, per sbloccare, per risolvere questi off improvvisi, può essere tra i 5-10 minuti, quindi abbastanza rapida, quindi può essere una terapia al bisogno, piuttosto utile. Dal mio punto di vista, facendo anche proprio lo studio già qualche anno fa, devo dire che un paziente che ha un off severo, non sempre ha una capacità inalatoria così potente per poterne sfruttare a pieno l'effetto, però è sempre un farmaco che si aggiunge. Vediamo invece se c'è qualcosa di nuovo per quanto riguarda i dopaminagodisti. Questi li conoscete tutti, sono quelli che sono sul mercato, due, rovinirolo e pramipexolo per formulazione orale, la roticotina per formulazione trasdermica, e poi abbiamo l'apomorfina come somministrazione sottocute, quella che abbiamo nominato prima anche per la levodopa, oppure per pengetto. C'è qualcosa di nuovo in quest'ambito? Sì, c'è un dopaminagodista nuovo piuttosto interessante, si sta terminando la fase 3 di studio, quindi una fase piuttosto avanzata, si chiama Tavapadon. Cosa ha di diverso? Anche questo è una monosomministrazione, quindi soltanto la mattina, un rilascio prolungato, rispetto agli altri ci cambia qualcosa? Forse sì, il profilo recettoriale di questo dopaminagonista è un po' diverso rispetto agli altri, lo rende potente, quindi una potenza abbastanza similare a quella della levodopa, rispetto agli altri dopaminagonisti dovrebbe avere meno effetti collaterali, soprattutto per quanto riguarda i disturbi degli impulsi che tanto sono noti con i dopaminagonisti. Un altro dopaminagonista, no, questo invece sempre fa parte delle stimolazioni diciamo prolungate, è molto avveniristica, sono delle formulazioni polimeriche che sfruttano dei sistemi di somministrazione di farmaci sotto cutaneo, questo è di qualche anno fa, ma purtroppo visto che non c'è stato troppo seguito a questo studio preliminare che era stato fatto in America, con questa tecnologia di polimeri che iniettano praticamente sotto cute queste piccole piccole impianti che rilasciano per tempi anche molto prolungati, questo studio era stato fatto col rovinirolo, ma ce n'è anche un altro, con la roticotina, con altre vie di somministrazione, addirittura con delle nano emulsioni intranasali, però purtroppo sono già di qualche anno queste tecnologie, ma non c'è stato un ritorno troppo ampio per la prosecuzione di studi in maniera un po' più approfondita. Invece questa è una realtà più concreta perché questo Kinobi, che è una formulazione invece di apomorfina, quella stessa che abbiamo in commercio già come sotto cute, come rescue therapy, oppure come penject, in questo caso è una formulazione sublinguale per la risoluzione rapida di episodi di off. C'è vari dosaggi, quindi bisognerà valutare il dosaggio idoneo per avere un rapido risoluzione dell'off che è molto individuale, la somministrazione sublinguale la rende molto pratica, quindi si aggiunge, perché questa è una fase invece di sviluppo e di commercializzazione molto molto avanzata, quindi dovremmo averla a disposizione in un tempo piuttosto rapido. Siamo un pochino invece meno brillanti nello studio di farmaci che vanno a controllare i movimenti involontari. Non abbiamo tantissimo, utilizziamo spesso nelle nostre terapie la mantadina, che ha avuto una seconda giovinezza in questo senso. Questi sono due studi di cui uno attualmente è in corso, quindi stiamo ancora, dovremmo vedere i risultati di questa compressa che mette insieme il buspirone e il zolmitriptan, per cui sono due farmaci che si utilizzano in altre patologie, ma la combinazione sembra avere un'azione recettoriale positiva sui movimenti involontari. Cosa che invece i risultati non sono stati altrettanto brillanti con il mesdopetan, che è uno studio che abbiamo concluso da poco, però l'endpoint primario di questo studio non è stato raggiunto, anche se sembra avere un effetto positivo sulla scala che noi utilizziamo per valutare i movimenti involontari. Ovviamente tutti i farmaci per i movimenti involontari hanno, come altro lato della medaglia, il fatto di prolungare gli off, e noi ovviamente questo non vogliamo migliorare i movimenti a discapito di una buona condizione motoria. Passiamo invece forse all'aspetto che può essere un pochino più più interessante. Forse ho sbagliato, curare il Parkinson già lo curiamo. Quello che noi vogliamo aspettarci è la guarigione o comunque una modifica della patologia degenerativa. E ovviamente questo discorso non può non partire dal discorso sull'alfa sinucleina. il Parkinson è una sinucleinopatia. Tutti noi in realtà siamo portatori di alfa sinucleina normale, ma a un certo punto per tutti i meccanismi che dobbiamo in parte ancora capire questa alfa sinucleina inizia ad ammalarsi per così dire e inizia ad avere una conformazione patologica che la porta ad aggregarsi a formare delle fibrille che all'interno del neurone dopaminergico formano i colpi di lei o i precintano e lo fanno morire con un meccanismo anche di passaggio tra il neurone e l'altro che può in qualche modo ricordare la trasmissione similprionta. Ora noi quest'alfa sinucleina quindi sappiamo tutti i processi che portano al fenomeno degenerativo ma possiamo interferire in questo fenomeno aggregativo che porta quindi alla degenerazione neuronale e quello di cui ci stiamo occupando è quello verso la ricerca dove maggiormente indirizzata ma soprattutto per i nuovi casi non sono non è facile individuare anche il diciamo la misurazione dell'effetto di questi farmaci che stiamo provando ma è veramente una bella sfida dunque noi possiamo agire praticamente a qualsiasi livello di questo processo quelli più noti che ultimamente sono in una fase già abbastanza avanzata di sperimentazione sono le terapie con gli anticorpi monoclonari cioè che vanno a intercettare l'alfasinucleina quando è già modificata e aggregata prima che si nel momento in cui si trasmette da una cellula all'altra e sono due grandi studi che sono stati pubblicati quest'anno sul New England Journal Medicine di cui uno il cimpanemab è lo studio della Biogen che purtroppo invece è stato interrotto circa dopo due anni anche qualcosina più di studio perché i risultati non sono stati clamorosamente significativi quindi l'end point dello studio non è stato raggiunto e lo studio è stato interrotto l'altro il Prasinezumab questa è la prima fase dello studio la fase 2A invece sta proseguendo con una fase 2B di studio nonostante diciamo da questi due studi se andate a leggere non sembrano esserci degli aspetti clamorosi invece noi proprio da questi studi dobbiamo prendere delle lezioni e imparare per costruire anche gli studi a venire è probabile che non siamo neanche in grado di ripeto misurare in qualche modo oggettivamente l'eventuale effetto positivo di questi farmaci sull'evoluzione di malattia questi sono gli studi che in qualche modo entrano e sono o in corso o in proprio in inizio di approccio almeno quelli che anche io conosco in maniera proprio più diretta lavorandoci avendoci lavorato e iniziando a lavorare su questo processo di aggregazione dell'alfasiducleina dicevamo quello Roche è il prasinezumab che avete visto prima è destinato a pazienti che hanno circa tre anni di malattia abbiamo già l'arruolamento è già concluso quindi ci sono già pazienti in trattamento da oltre un anno ma per avere i primi risultati tutti i pazienti di tutto il mondo devono terminare diciotto mesi di studio per avere un'idea quindi io penso che intorno al entro i dieci mesi noi dovremmo avere un risultato già concreto di questo studio l'altro è un anticorpo e il Roche è un intravenoso quindi ogni mese i pazienti hanno una terapia mentre l'UCB è un anticorpo che viene somministrato per via orale due volte al giorno anche in questo caso l'arruolamento è finito i pazienti hanno già terminato non tutti un anno e mezzo di trattamento e stanno entrando nella fase in aperto nel giro di sei otto mesi dovremmo anche qui avere i primi risultati sull'efficacia di questo farm gli altri tre studi vi faccio un accenno un pochino più approfondito sono è interessante perché partono da quella diapositiva che vi ho fatto vedere all'inizio cioè lo studio anche della medicina di base in questo in quell'ambito di ricerca tantissima importanza sta avendo lo studio dei fattori genetici una domanda che viene sempre fuori negli ambulatori ma il Parkinson ereditario c'è una componente genetico non è una malattia ereditaria ma sicuramente lo studio di questi geni predisponenti ci porta anche a studiare delle terapie più mirate le anomalie genetiche si riscontrano come mutazioni anche di proteina in una percentuale bassa di pazienti ma lo studio di questi fattori ci aiuta a capire la malattia e questi sono proprio due farmaci che partono da questi presupposti uno è un inibitore selettivo della proteina LARC l'anomalia della proteina LARC si trova più o meno nel 3-4% dei pazienti questo farmaco è stato sviluppato da adenali e poi da biogen inizialmente come un farmaco selettivo per questo tipo di pazienti che hanno la mutazione in realtà lo studio è stato ampliato a tutti i pazienti anzi quelli non positivi per la proteina LARC perché hanno visto che può essere assolutamente positivo inibire la proteina per migliorare la disfunzione lisosomiale che è alla base del processo infiammatorio che può portare alla disgregazione dell'alfasinucleina mentre un altro studio che è proprio invece specifico per i pazienti che hanno una mutazione del gene GBA che è poi il più frequente che si ritrova fino al 7% dei pazienti partirà a breve e in questo caso c'è proprio un'inibizione per un attivatore allosterico dell'enzima che è responsabile e uno dei più comuni fattori di rischio genetici della malattia e infine un altro farmaco che è molto interessante perché ha un target più ampio perché è implicato proprio nella cascata tossica quindi non soltanto dell'alfasinucleina ma se anche in altri aspetti tossici come quelli della beta-amiloide della proteina tau che sappiamo entrano in gioco anche in altre patologie la più importante è l'Alzheimer la PSP eccetera è stato studiato adesso si è chiusa la fase 2 ed è stato uno degli studi che ha portato un ruolamento in tempi brevissimi lo studio si è aperto e chiuso nel giro di pochissimo tempo perché era stato raggiunto immediatamente il target a ottobre si conclude lo studio quindi di questo avremo veramente dei risultati a breve e speriamo di avere la possibilità di studiarlo e sfruttarlo in maniera più ampio questo studio e chiudo questa carrellata che avrebbe bisogno fare una disamina di tutti gli studi è impossibile ci vorrebbero veramente tante tante ore però chiudo con un aspetto che è interessante le cellule staminali la domanda sulle cellule staminali oramai è veramente anni che ce la portiamo avanti anzi forse io mi ricordo ma forse vent'anni fa ne parlavamo come una possibilità terapeutica quasi alle porte in realtà è stata messa in stand by per tanto tempo per tutta una serie di problematiche che non sono soltanto quelle etiche ma proprio perché è difficile poi sviluppare le cellule che siano in grado di sopravvivere di produrre dopamina di integrarsi nel cervello di non dare origine a cellule patologiche tumorali dare origine a cellule che altrimenti vengono rifiutate dal nostro corpo e ovviamente per lavorare in sicurezza anche con l'accettabilità del trattamento tenete conto che tutti questi studi di cui parliamo per avere un per poter proseguire devono dimostrare un'efficacia almeno verso placebo se non verso un corrispettivo attivo quindi pensate alla difficoltà di disegnare uno studio verso placebo con un trapianto di cellule staminali la buona notizia qual è? che si stanno riprendendo in mano e probabilmente all'inizio del prossimo anno ci sarà uno studio nuovo perché uno studio di fase 1 della portata avanti dalla Bayer della Blue Rock Therapeutics ha dato dei risultati incoraggianti in pazienti con uno stadio già un pochino più avanzato di patologia quindi sembra che ci siano le basi per l'anno prossimo per partire in uno studio più ampio multicentrico a livello anche in Italia ci sarà per andare a vedere se c'è un'apertura ancora nel nostro futuro verso le cellule staminali forse sono andato un pochino troppo di corsa Maurizio dimmi se va bene grazie Laura veramente per questa ottima carrellata su tutti i punti della terapia novità effettivamente concordo con te che diciamo per toccare approfonditamente tutte le possibili novità avremmo bisogno di impossibile ho parlato di quelle un po' più concrete effettivamente senza volare troppo quindi su quelle che sono effettivamente gli studi in corso gli studi appena conclusi quello che potrebbe andare sul mercato è ovvio che accanto a questo è il discorso economico che non dipende da noi è enorme sono alcune di queste terapie hanno dei costi enormi per cui anche pensare un'applicabilità su larga scala prevede delle tappe che ovviamente saranno molto complesse da gestire certo senti Laura siccome poi dopo parliamo della terapia chirurgica io pensavo di farti rispondere se vuoi a due o tre domande che abbiamo che sono comparse qui sulla chat certo durante la tua presentazione allora la prima inizia così spettatore anonimo che chiede notizie su duodopa ora io immagino che si voglia riferire al fatto piuttosto della infusione sottocutanea penso perché penso perché la duodopa oramai è quasi la diamo tra i farmaci vecchi l'ho fatta vedere tra quelle oramai consolidate comunque allora ti riformulo io sul fatto che tu insomma se quando pensi pensiamo che effettivamente questa terapia infusionale sottocutanea possa effettivamente essere a disposizione e se a tuo giudizio questa è un'altra cosa effettivamente sia sovrapponibile a quello che si può fare insomma di efficacia sovrapponibile all'infusione per via intraduodenale appunto la duodopa che si fa adesso o se se tu intravedi invece un ruolo diverso allora sicuramente con la duodopa si riescono a raggiungere dei dosaggi più elevati quindi per i pazienti particolarmente avanzati poi soprattutto se subentrano anche delle altri tipi di problematiche la duodopa resta più potente perché uno ha possibilità di gestire dei volumi più grandi il sottocute ti impone un tipo di assorbimento che non può superare un massimo di dosaggio almeno durante lo studio c'era un massimo di dosaggio di erogazione che si poteva somministrare non si può andare oltre quindi alcune volte c'è necessità di integrazione con una terapia orale però sui dosaggi bisogna vedere quella che come verrà messa in commercio se ancora ad esempio nello studio neuroderm che abbiamo chiuso era con una doppia siringa se si riuscirà a fare una siringa migliore io so che anche gli stessi della duodopa stanno studiando un altro tipo di levodopa in infusione quindi sarà forse leggermente diverso su questo ci dobbiamo tarare però io spero per la sottocutanea di averla veramente nel giro non di tempi lunghissimi forse da qui a un anno potremmo averla concretamente grazie allora ti faccio ancora un'ultima domanda poi ce n'è ancora qualcuna e se avremo tempo le risponderemo alla fine oppure rispondiamo poi eventualmente per email e la domanda è questa giusto sul fatto che se consigliare di fare a questo punto i test genetici e se sì quando questo effettivamente ce lo chiedono tutte ce lo chiedono tutti e poi devo dire che non è sempre anche facile gestire i test genetici bisognerebbe avere sempre un consulente genetico bisogna avere la possibilità e i costi per poter fare un test genetico alcune volte negli istituti di ricerca abbiamo questa fortuna non tutte le strutture a livello capillare lo hanno il clinico se è un parkinsonologo dovrebbe capire quando c'è un'effettiva necessità di fare un test genetico se l'esordio è precoce se ci sono delle caratteristiche di malattie particolari se c'è una familiarità quindi io dico sempre che il giudizio del medico esperto che dovrebbe indirizzare verso l'esecuzione di un test genetico più o meno tra virgolette obbligatorio nel corso di questi studi praticamente si fa di routine cioè partecipare a uno studio clinico spesso prevede l'esecuzione di un test genetico ok ultima propria domanda e poi passiamo alla relazione di Luigi c'è una persona che chiede se la levodopa è efficace anche sui parkinsonismi su base vascolare poi aggiunge qualche piccolo dettaglio paziente agitato pressione sui cento di massima quindi sembrerebbe bassa si può ridurre il bisogno a un quarto insomma sono casi molto personali quindi dobbiamo verificare assolutamente si sa che nel caso di un parkinsonismo vascolare comunque l'unico farmaco che può dare una qualche efficacia è la levodopa ma dipende la risposta non è mai brillantissima e dipende dalla risposta individuale se ci sono più effetti collaterali che beneficio non vale la pena questo è il mio giudizio ti ringrazio concordo comunque ti ringrazio allora a questo punto passerei ad introdurre il dottor Luigi Romito è invece esperto di terapie chirurgiche stimolazione cerebrale profonda in particolare lavora all'istituto neurologico Besta e ci parlerà di queste terapie chirurgiche del parkinson grazie Luigi prego buongiorno a tutti grazie dell'invito io parlerò di una terapia integrativa alla terapia farmacologica e che spesso viene al termine di tutta una serie di costruzioni attente e ragionate della terapia farmacologica stessa proprio in modo preparatorio agli eventuali interventi di natura funzionale per cui spero che si veda la presentazione si vede devi metterla a pieno schermo effettivamente forse ecco qui sostanzialmente bene 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 quello quello che per quale la prima domanda è per quale motivo si fa una terapia chirurgica per i disturbi del movimento perché esiste una fisiopatologia legata ai segni motori e i segni non motori in particolare noi possiamo individuare dei disturbi ipercinetici come la distonia e come il tremore e dei disturbi ipocinetici come la cinesia tutti questi disturbi sono causati da un coinvolgimento critico dei ganghi della base del cervelletto del talamo e delle cortecce il cervello dei mammiferi ma così anche quello dei rettili contiene molte strutture che si occupano della calibrazione perfetta del movimento e del comportamento in particolar modo abbiamo i ganghi della base che sono costituiti dal globo palido interno esterno dal putamen dal nucleo subtalamico e dal che si connettono a varie aree del cervello ed altri nuclei soprattutto talanici ad esempio nel circuito del tremore viene coinvolto anche il cervelletto e questo infatti è alla base di alcuni dei fenomeni legati all'efficacia delle terapie lesionali quindi per quanto riguarda la malattia di Parkinson in particolare vi è una denervazione dopaminergica nigrostriatale di 2 che è alla base proprio di una parte delle manifestazioni cliniche della malattia stessa in realtà le lesioni e gli interventi a livello cerebrale sono cominciati tanti anni fa vi è una linea temporale abbastanza lunga che non si è mai interrotta naturalmente la tecnologia ha permesso di introdurre delle nuove capacità terapeutiche e di migliorare gli interventi stessi di natura chirurgica per cui di fatto attualmente si può dire che per trattare i disturbi del movimento in realtà ci sono tantissimi target tantissimi luoghi tantissimi nuclei del cervello e questi nuclei sono interessati sia dai trattamenti lesionali sia dalla stimolazione cerebrale la stimolazione cerebrale probabilmente tra queste terapie è quella che ha manifestato l'avanzamento tecnologico più tumultuoso che è una linea temporale da considerare per quanto riguarda la tecnologia sia per quanto riguarda gli strumenti per la misura e l'individuazione dei nuclei all'interno del cervello sia per quanto riguarda la tecnologia che ha permesso poi di stimolare quindi di distribuire in punti specifici del cervello degli impulsi elettrici addirittura wireless con tutto quello che è poi stato l'avanzamento dei materiali dei circuiti dei software che permettono di comandare questo tipo di terapia tecnologica avanzata si parte quindi da stimolatori estremamente ingombranti estremamente poco modulabili caschi stereotastici sviluppati soprattutto durante i periodi bellici per operare i soldati con proiettili all'interno del cervello grandi innovatori hanno permesso quello che attualmente è la capacità di trattamento quindi noi abbiamo tecnologia per individuare i nuclei da trattare con la risonanza magnetica con la TAC attualmente è anche stata introdotta la trattografia possiamo verificare intraoperatoriamente i target teorici tramite la registrazione dell'attività neuronale che sono i MER oppure i potenziali di campo gli stessi pazienti possono essere testati mentre si fa l'intervento perché la gran parte dei pazienti sono operati da svegli almeno per quanto riguarda la malattia di Parkinson sia per l'efficacia clinica acuta sia per quanto riguarda gli effetti clinici negativi dovuti alla stimolazione dopo l'intervento è possibile visualizzare tramite software facendo gli esami di neuroimmagine postoperatoria anche la correttezza dell'impianto stesso degli elettroni per cui attualmente una sala operatoria moderna per la DBS ha un sistema intraoperatorio di visualizzazione delle immagini e quindi di visualizzazione del posizionamento una piattaforma per la registrazione dell'attività elettrica neuronale o dei potenziali di campo questa è un'attività tipica molto una figura molto famosa dei primi studi fatti da Charles per quanto riguarda il percorso che la la stimolazione fa tramite la registrazione per cui in molti centri sono stati introdotti anche dei sistemi robotici per migliorare la precisione per migliorare quindi la qualità dell'intervento stesso idealmente attualmente l'impianto prevede un generatore di impulsi impiantabile è un po' come il pacemaker cardiaco connesso con una estensione fino alla parte che poi entra all'interno del cranio e va a stimolare nello specifico la struttura da modulare quindi è una struttura comunque invasiva sono tecnologie al massimo della loro espressione per quanto riguarda la qualità dei materiali e la capacità delle batterie tant'è vero che abbiamo i sistemi ricaricabili che durano anche 15 anni o anche più nel mondo ideale quando facciamo un impianto naturalmente l'effetto stesso dell'impianto deriva dalla precisione anatomica questo è un paziente che è con una malattia di Parkinson esordio giovanile in una condizione diciamo abbastanza rara di assenza di trattamento farmacologico proprio per via della qualità dell'efficacia questa è una verifica a 5 anni dall'impianto quindi un signore con pochissimo tremore residuale con una buona capacità di movimento sostanzialmente lui ha interrotto la terapia farmacologica ma non è l'obiettivo della DBS quella dell'interruzione della terapia farmacologica in alcuni casi i pazienti preferiscono eliminare la terapia farmacologica la cosa interessante è che in pazienti che rispondono in maniera ottima la stessa interruzione della terapia elettrica ecco questo ero io da bambino la stessa interruzione della terapia elettrica produce quando non c'è la copertura farmacologica un effetto di gravissimo di gravissimo peggioramento del parchinsonismo questo immediatamente nell'immediato proprio dello spegnimento dello stimolatore questo signore inizia a presentare nuovamente un tremore molto intenso come vedete inizia anche ad avere un atteggiamento distonico del viso la bocca non riesce più a parlare ha iniziato ad avere la distonia degli arti inferiori e va verso uno stato acinetico molto profondo per cui sostanzialmente in genere i pazienti con alcune forme di malattie di Parkinson giovanili soprattutto con profilo genetico si può osservare una risposta così importante questa risposta come ripeto è garantita dalla qualità dell'intervento che viene fatto quello che sostanzialmente fa la DBS integrandosi con la migliore terapia farmacologica possibile è quello di alzare la magnitudine dell'effetto ON quindi i pazienti sperimentano una riduzione della profondità del blocco motorio e nel caso limitato della stimolazione del nucleo subtalamico anche una riduzione delle dicinesie perché si riesce a ridurre in una certa maniera dal 15 anche fino al 50% il carico farmacologico soprattutto della levodopa per cui vi è un miglioramento globale della della motività e un miglioramento globale della qualità della vita questo però si scontra purtroppo con quello che avviene andando avanti negli anni perché gli studi che sono stati condotti osservazionali prospettici che coinvolgono 5-8 anni fanno vedere che alcuni dei fenomeni che all'inizio sembravano essere estremamente corretti poi negli anni smettono di avere questo miglioramento in particolare quelli che sono i segni assiali off il freezing della marcia il disequilibrio il disturbo della parola anche i sintomi non motori soprattutto i disturbi del sonno la fatica i disturbi urinari tendono a migliorare con la stimolazione cerebrale profonda della del nucleo subtalanico in realtà molte scuole soprattutto nordamericane utilizzano la stimolazione del globo pallido interno di fatto non c'è un vincitore tra i due target probabilmente la vera differenza tra il pallido e il subtalamo è che i pazienti impiantati nel subtalamo hanno una riduzione della terapia farmacologica che invece non avviene per quanto riguarda invece la stimolazione pallidale per cui per rispondere alla necessità di migliorare anche i segni assiali sono stati fatti dei trial di stimolazione del nucleo peduncolo puntino con dei risultati che non sono purtroppo perfettamente riproducibili per quanto riguarda il miglioramento del freezing o del disturbo dell'equilibrio naturalmente pazienti molto gravi che hanno problematiche questa è una ragazza con una malattia geneticamente determinata che hanno delle patologie molto gravi dovrebbero essere impiantati probabilmente prima di avere un quadro motorio così complesso derivante proprio dalla difficoltà motoria e anche dalla difficoltà poi a gestire quella che è l'on motorio perché pazienti come questa ragazza quando sono in on motorio non hanno comunque un miglioramento nella qualità della vita perché le discine si impediscono qualunque tipo di attività autonoma per cui cercare di in un certo senso di considerare anche la tempistica dell'impianto potrebbe ridurre gli anni passati in condizioni di non controllo della malattia questa è la ragazza dopo circa un anno dall'impianto del nucleo subtalanico bilateralmente un po' per attaccarmi al discorso che faceva Laura anche qui forse la grande novità prospettica sarà quello di finalmente correlare la genetica con le risposte con la tempistica di quando fare gli impianti nel nucleo subtalanico nel pallido o negli altri target le prospettive tecnologiche sono molto floride innanzitutto c'è un'evoluzione delle neuroimmagini quindi un miglioramento ulteriore sia del posizionamento degli elettrodi almeno teorico e anche un'indagine per quanto riguarda quello che è il motivo per cui la stimolazione cerebrale funziona quindi sono in atto molti studi sulla connettività funzionale sulla connettività strutturale stessa modulata dalla neurostimolazione ci sono degli strumenti che permettono ai ricercatori e anche ai medici di migliorare anche la la forma di stimolazione stessa e studiando poi l'attività possibile a livello neuronale che è alla base dei meccanismi della DBS quindi si stanno introducendo altre modalità di stimolazione sono alcune sono attuali come la A e anche la B e altre sperimentali quindi forme diverse di onda elettrica modalità diversa di stimolazione nuovi elettrodi che servono per ottimizzare la programmazione intorno a quello che poi è il nucleo da stimolare che sia il solutano che sia il pallido che sia qualcos'altro ad esempio gli elettrodi segmentati permettono di orientare la stimolazione quindi di migliorare quello che è poi il beneficio clinico e ridurre quello che è l'effetto collaterale da stimolazione di strutture vicine ad esempio al nucleo subutalamico che però non devono essere stimolate per cui ritornando poi ai target sono in corso studi anche per rispondere all'esigenza di migliorare i segni che non vengono migliorati dalla stimolazione di un solo target di impianto di più target all'interno del cervello quindi impianti coordinati e combinati tutto è sotto costruzione questo è il bello della tecnologia applicata alla chirurgia funzionale dei disturbi del movimento la grande rivoluzione probabilmente verrà fuori da quello che poi la la individualizzazione stessa della stimolazione con meccanismi di automazione in pratica il concetto della stimolazione adattativa o adattiva che è sostanzialmente è una stimolazione diversa a loop chiuso quindi un circuito chiuso all'interno del generatore di impulsi che è stato naturalmente ulteriormente adattato grazie ad un'evoluzione del sistema elettronico arrivano dei marker dei biomarker che segnalano il tipo di attività in atto all'interno del cervello in base a questa attività e alla variazione di questa attività stessa viene modificata la stimolazione per cui la stimolazione si adatta a quella che è l'esigenza motoria del paziente in particolare sono state individuate quelle che vengono chiamate delle bande bande beta attività gamma che sembrano essere legate ad esempio a specifici problemi come la cinesia come i movimenti involontari come il tremore naturalmente queste bande sono la rappresentazione di quello che è l'attività a livello dei gangli della base quando vengono rilasciati degli specifici neuromediatori in pratica se si ha disposizione un sistema che registra questa variazione dell'attività intracerebrale o corticale è possibile tramite il sistema di automatizzazione della DBS adattiva cambiare la forma di onda l'intensità dello stimolo in modo da migliorare quella che è la risposta clinica del paziente per cui quello che è attualmente il modello principale che è di una stimolazione a circuito aperto piano piano è stato introdotto il circuito chiuso ma è un'ulteriore evoluzione possibile sia per quanto riguarda la numerosità delle fonti di informazione che potranno essere utilizzate per elaborare il tipo di stimolazione da dare addirittura utilizzando dei sensori esterni come un orologio come dei sistemi di natura adattativa per cui nel futuro quello che è adesso un sistema abbastanza ingombrante per quanto riguarda la grandezza dei componenti è anche un pochino poco adattato al corpo delle persone si passerà sicuramente a sistemi più integrati magari senza la necessità di inserire cavi perché verranno costruiti dei sistemi di generatore di impulsi molto piccoli magari da integrare nella teca cranica con comando wifi con ricarica rapida e addirittura con ricarica tramite la bioelettricità del corpo un'evoluzione già in atto è quella di poter integrare alle visite quello che poi il monitoraggio tramite tramite remoto quello che è una tele dbs una programmazione tele dbs un po' come si fa con le visite come anche i cardiologi hanno iniziato a fare tutto questo naturalmente va avanti perché sta aumentando la capacità di calcolo sono stati introdotti meccanismi di intelligenza artificiale soprattutto di machine learning che permettono ai ricercatori anche di costruire dei sistemi che possano accogliere più informazioni e dare risposte molto più precise per quanto riguarda la stimolazione naturalmente non bisogna dimenticare che l'avanzamento tecnologico ha reintrodotto le lesioni vere e proprie sia per quanto riguarda le radiofrequenze sia per quanto riguarda la terapia tramite laser ma soprattutto tramite gli ultrasuoni focalizzati guidati dalla risonanza questa è in realtà una una evoluzione anch'essa molto che viene da lontano dal 1942 quando ci sono stati i primi studi degli ultrasuoni focalizzati per il trattamento delle malattie cerebrali adesso abbiamo dei sistemi ad altissima tecnologia che naturalmente hanno preso in prestito tutto quello che si è venuto a sapere dalla tecnologia applicata alla DBS per cui si riesce in risonanza con il paziente sveglio a lesionare quello che è il target in questo caso questo è un paziente a cui è stata fatta una talamatomia stereotassica per curare un tremore abbiamo la possibilità di misurare anche qui l'attività clinica perché il paziente essendo operato lo sveglio potrà fare i nostri test in particolare possiamo fare delle sonicazioni di prova che ci permettono di stabilire se il paziente ha un effetto clinico intraoperatorio o degli effetti collaterali quindi accettare il target o cambiare il posizionamento della lesione per poi fare la lesione definitiva pazienti questo è nello specifico è un signore che è un tremore da tremore essenziale con una grande risposta immediata alla lesione stessa anche qui le tecnologie di neuroimmagine e di tracciamento dei circuiti ci stanno dando la spiegazione per quale motivo queste lesioni così precise hanno così tanto impatto clinico probabilmente la introduzione delle tecnologie come gli ultrasuoni focalizzati permetterà un po' di cambiare il nostro atteggiamento per quanto riguarda l'applicazione della chirurgia funzionale ai disturbi del movimento attualmente il paziente può dopo circa cinque anni quando iniziano le fluttuazioni e i movimenti volontari può essere trattato con una chirurgia precoce alla DBS tipicamente il paziente viene trattato proprio nel momento in cui qualcosa di forse non responsivo sta per cominciare la tendenza è di migliorare la risposta anticipando un po' ma non troppo l'età della DBS intesa come carriera da Parkinsoniano per cui i risultati della talamotomia questo è uno studio che abbiamo condotto qui a Milano e che fa vedere che nel tempo si ha un risparmio della terapia farmacologica quando il paziente in questo caso erano pazienti con tremore dalla malattia di Parkinson i pazienti vengono trattati con la talamotomia tramite gli ultrasuoni è possibile ridurre significativamente la terapia farmacologica e così anche è successo invece dal punto di vista del miglioramento della della gravità della malattia stessa ma non della riduzione del farmaco per quanto riguarda quelli che sono gli studi della sub-talamotomia tramite ultrasuoni focalizzati in particolare questo è uno studio di Martinez Fernandez e di Coseo Beso che fa vedere in gran parte dei pazienti una riduzione intorno al 30% della gravità del Parkinsonismo senza che però vi sia una riduzione della terapia farmacologica questi sono pazienti trattati da un solo lato stessa cosa è emerso dal punto di vista della della possibile efficacia in pazienti che avevano già i movimenti involontari quando sono stati trattati con una pallidotomia del globo pallido interno tramite gli ultrasuoni focalizzati si è visto che la maggior parte dei pazienti sono i pazienti in azzurro anche dopo il termine della della fase in cieco continuavano a mostrare un miglioramento o dell'updRS terzo oppure della scala della delle discinesie con pochi effetti collaterali legati alla terapia quindi forse probabilmente nello sviluppo ulteriore della tecnologia applicata alla neurochirurgia funzionale dell'alte di Parkinson si potrà prevedere di trattare i pazienti con la subtalamotomia o la talamotomia tramite gli ultrasuoni focalizzati quelli che hanno un profilo genetico o hanno una storia di malattia specifica trattarli già con la chirurgia della DBS o in alternativa con la pallidotomia quando iniziano a sviluppare le discinesie qualcuno forse ancora potrebbe essere trattato dopo i dieci anni dall'inizio della malattia forse no probabilmente non si smetterà di trattare questi pazienti perché la maggior parte verrà trattato con una qualche chirurgia prima dei dieci anni dall'inizio della malattia stessa ci sono vantaggi e svantaggi in tutte e due le tecnologie che siano la DBS che siano gli ultrasuoni focalizzati la DBS naturalmente è una chirurgia direttamente invasiva gli ultrasuoni focalizzati corrispondono ad una tecnologia indirettamente invasiva nel senso che comunque la lesione viene fatta ugualmente in alternativa nei pazienti che non possono fare la DBS o che non possono fare il trattamento con gli ultrasuoni focalizzati la tecnologia stessa ha permesso di ulteriormente sviluppare quella che è poi la radiochirurgia ad esempio per il tremore o per quanto riguarda le discinesie quindi pazienti non DBS che non possono fare gli ultrasuoni focalizzati in alcuni casi è possibile trattarli anche con la radiochirurgia stereotassica negli stessi target in particolare il talamo e il pallido delle precedenti tecnologie per cui un algoritmo reale non esiste ancora però probabilmente si potrà poi decidere potenzialmente quando queste tecnologie diventeranno tutte mature l'indirizzo giusto da dare al paziente con la malattia di Parkinson considerando sempre che qualunque tipo di tecnologia deve contenere l'umanità stessa grazie 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 anche per te un'ottima relazione su questo tema sicuramente che ha riscosso molto interesse anche tra le persone abbiamo pochi minuti adesso chiedevo quando è che termina il collegamento mi dicevano proprio alle 16 quindi temo che faremo possiamo possiamo dare anche regalare qualche minuto in più cinque minuti per le domande allora se abbiamo cinque minuti di domande procedo subito Luigi porti la domanda la prima che è arrivata riguardo alla terapia chirurgica chiedeva se è per tutti e a che punto della malattia sostanzialmente è bene considerarla quindi sicuramente un po' ne hai già parlato in questa prospettiva di differenti modalità però magari un commento su questa richiesta specifica la terapia la terapia neurochirurgica in realtà ricalca quella che è l'efficacia della terapia farmacologica in gran parte dei segni neurologici per cui tipicamente sono pazienti che hanno molta risposta alla terapia farmacologica perché però sviluppano delle fluttuazioni della risposta oppure delle discensie estremamente importanti non sono pazienti che hanno quelli da indicare almeno per quanto riguarda la neurochirurgia del nucleo subtalamico in genere si evita di impiantare pazienti che abbiano sviluppato dei sintomi o dei segni neurologici soprattutto assiali che non rispondono più alla terapia farmacologica perché si è visto che la risposta è molto scarsa per cui non c'è un vantaggio sotto questo punto di vista forse una differenza può essere i pazienti quella dei pazienti con molto tremore soprattutto con tremore monolaterale in cui è possibile pensare ad una risposta superiore alla terapia farmacologica tramite l'impianto nel talamo nel talamo tramite una lesione del talamo vim probabilmente in quel caso solo in questo caso specifico la terapia farmacologica può essere meno efficace della terapia chirurgica quindi la terapia chirurgica potrebbe essere offerta anche prima a questi pazienti anche per il discorso di ridurre quello che è l'impatto della terapia farmacologica ad altri dosaggi va benissimo allora ancora una domanda per te Luigi poi chiuderei con una domanda per Laura allora per te Luigi è questo c'è un paziente che chiede se la DBS adattativa sarà solo sui nuovi modelli oppure potrà essere attuata anche su pazienti che hanno già un impianto allora è possibile è possibile connettere il generatore di impulsi con il sistema adattativo già a pazienti che hanno una precedente DBS per capirci gran parte dei modelli di elettrodi sono compatibili con i nuovi sistemi di tipo adattativo naturalmente la scelta dovrà essere fatta in base a quello che si vuole ottenere perché pazienti che hanno un'ottima risposta alla terapia elettrica convenzionale molto probabilmente non è necessario offrire una terapia adattativa perché già hanno una risposta adeguata in particolare forse pazienti che sperimentano ancora dei disturbi del movimento combinati che siano il blocco motorio che siano le licensie e che non riescono ad essere modulati dalla terapia convenzionale probabilmente sono le persone che potrebbero essere destinate alla terapia adattativa va bene grazie allora vorrei dire che tutte le persone che hanno mandato delle domande a cui non potremo dare risposta cercheremo di rispondere diciamo via mail e chiuderei a questo punto con Laura con una domanda un po' più generale ecco tenete conto anche che molte domande sono arrivate su questioni specifiche tipo prendo quattro pastiglie di cinema e continuo ad avere il tremore ecco queste domande qua non si riesce tanto a rispondere durante i seminari perché è chiaramente una cosa che uno deve discutere col proprio neurologo sostanzialmente più che non fare una domanda comunque invece questa persona qua chiede una cosa che mi sembra interessante che dice mi sembra che tutte queste siano prospettive farmacologiche chirurgiche per pazienti giovani e ad esordio recente ma c'è qualche novità per Parkinson di più lunga data 20 anni per esempio oppure persone anziane era la domanda che mi aveva colpito di più in realtà però io nella parte iniziale della mia relazione ero proprio dedicato a loro partivo proprio dalla concretezza della terapia sintomatica perché la maggior parte dei pazienti che noi dobbiamo curare i pazienti hanno già una diagnosi hanno già una terapia da anni quindi tutta la parte di ricerca farmacologica e di miglioramento dei farmaci che abbiamo a disposizione proprio per loro quello che dicevamo le rescue therapy la terapia al bisogno le terapie infusionali i nuovi farmaci con meno effetti collaterali sono destinati a pazienti che hanno 10-20 anni di malattia iniziamo a vedere pazienti con 30 più anni di malattia quindi è una porzione importantissima la parte dei giovani è perché la patologia la vediamo sempre più precocemente anche i pazienti giovani e loro hanno tanti anni davanti quindi è giusto focalizzare la ricerca per cercare di frenare in qualche modo la patologia ma curiamo per primo i pazienti che noi abbiamo in trattamento tutti i giorni quindi la speranza e l'ottimismo è per tutte la popolazione di pazienti va bene ti ringrazio molto e ringrazio la fondazione Limpe città italiana per il Parkinson la dottoressa Vacca e il dottor Romito grazie Maurizio grazie a tutti grazie grazie a tutti anche io ovviamente al nome della fondazione Limpe vi ringrazio per essere stati con noi oggi e prima di lasciarci però faccio ci tengo a ricordare il prossimo appuntamento previsto per giovedì ventotto settembre sempre dalle quindici alle sedici e il titolo sarà sindrome di Pisa e altre problematiche del tronco prevenzione e trattamento oggi c'era una domanda quindi sarà più mirata la risposta esattamente potrà vedere anche il prossimo quindi faremo in modo lo invitiamo a partecipare al prossimo webinar senz'altro ringrazio ancora tutti pomeriggio grazie ancora a tutti arrivederci ciao ciao ciao